La Cisla di Belluno e Treviso ha effettuato una ricerca su 2550 lavoratori riguardante le condizioni di lavoro nelle due province. I risultati sono stati presentati dal segretario generale Paglini assieme ai ricercatori Stefano Dalpracaputo e Francesco Peron. Dallo studio è emerso come gli occupati chiedano generalmente salari più alti, flessibilità, percorsi di crescita in azienda e maggior tempo libero e qualora le richieste non vengano soddisfatte cambino lavoro. Il campione è rappresentativo delle varie fasce d'età e di tutte le categorie professionali, poco meno del 60% dei soggetti che hanno risposto ai quesiti del sindacato sono di sesso femminile. Il dato che emerge di più è come dopo la pandemia ci è stato anche un cambiamento di valori di alcuni lavoratori, soprattutto quelli più giovani. Giovani che cercano più welfare e non solo quindi più salario, giovani che cercano aziende che diano smart working, ci sono nuove esigenze che devono essere interpretate e capite dalle imprese perché è importante insomma cercare di attrarre qui nel territorio giovani e nuove figure lavorative. C'è una situazione nel mondo del lavoro in particolare, quello bellunese, in cui la gente non è più disponibile a svolgere qualsiasi lavoro a qualsiasi costo. I giovani in particolare non sono più disponibili a trattamenti economici di livelli troppo bassi e soprattutto vogliono armonizzazione di vita e lavoro. Da gennaio a giugno 2022 in provincia di Belluno le dimissioni volontari sono state 4.765, un dato che è destinato a crescere e a superare il 2021 quando le dimissioni furono 7.860. Dalla CISL emerge dunque una proposta concreta a favore dei lavoratori. Crediamo che serva un piano straordinario per l'occupazione della montagna in particolare perché poi in queste realtà abbiamo un problema sia nel pubblico che nel privato, sulla sanità piuttosto che nei tribunali, piuttosto che nella pubblica amministrazione. E noi crediamo che questa sia un'emergenza sociale che se non l'era affrontata rapidamente porterà l'abbandono al spopolamento più rapido di quello che è già in atto in queste terre, in questa realtà.